Buongiorno a migliore per fare questa bella giornata una bella città sulle dune, una passeggiata sulla fatica camminare in salita poi fa un passo avanti e dieci indietro insomma ho lasciato Maurizio da sopra, adesso vediamo se riesco a raggiungerlo dovremo arrivare in cima alla duna più alta di questa zona questo poi nei prossimi giorni diventerà anche altro questo Merzouga 2018, una delle tappe che si correranno proprio qui in questa magnifica zona del Maghreb, territorio marocchino eccoci qua, è ancora lunga, arrivare in cima sicuramente non vedrà niente da sopra eccoci qua la prestazione